So che Roberto volevi fare, io lascio fare a te la domanda quella un pochino attuale e piccantina. E piccantina, la faccio volentieri anche perché dobbiamo assolutamente cogliere l'occasione di avere uno specialista di aromatologia nel nostro studio proprio alla primissima puntata di Tutto Bene TV. E la domanda riguarda ovviamente i vaccini, il tema è molto dibattuto, a volte anche in luoghi forse non proprio deputati alla scienza come possono essere i social network, che sono però luoghi che in un qualche modo fanno opinione. Vaccini sì, vaccini no, è una generalizzazione un po' ampia, però per capire e andare un attimo in profondità di questo dibattito, fanno poi così male, sono negativi, possono dare fastidio, possono portare a malattie? Allora, innanzitutto va fatta una premessa e questa serve per sgombrare qualsiasi tipo di dubbio. I vaccini sono stati una delle grandi conquiste della medicina moderna, quindi nessuno può mettere in dubbio questo tipo di conquista. Detto questo, occorre ritornare a quelle che sono le premesse. Allora, i vaccini sono una terapia. Quando sono entrato in ospedale dal professor Gasbarrini, che è uno dei grandi maestri della medicina, ci hanno ripetuto fino alla nausea, ci hanno insegnato, quando ci stavano formando medici, ci hanno insegnato che non esiste nessuna terapia che vada bene tutta per tutti. Quindi, come per tutte le terapie, così come noi non possiamo dare la stessa terapia a tutti i malati affetti d'artiteromatoide, perché ogni malato d'artiteromatoide, la frase che ci hanno insegnato è che non esistono i malati, esistono le malattie. Noi non curiamo malati, noi curiamo malati, scusi, noi curiamo malati e non curiamo malattie. Quindi noi dobbiamo seguire la singola persona e la singola persona ha un'infinità di variabili. La medicina, fra tutte le scienze, è una di quelle più imprecise, tra virgolette, perché le variabili sono infinite, sono molto, molto, molto ampie. Questo significa che ogni persona ha delle caratteristiche che vanno valutate dal medico e quindi lo stesso vale per i vaccini. Quindi per i vaccini, quando si dice rivolgersi al proprio medico, è sacrosanto, perché il medico che cura la persona sa qual è la sua storia clinica, sa se ci sono delle problematiche che possono entrare in contrasto con il singolo vaccino. Ci sono dei vaccini che possono essere più problematici, altri che sono assolutamente meno problematici. Il problema è sempre nella complessità, quindi se darne uno solo, se darne tanti assieme, in che sequenza, se c'è un adiuvante dentro, se non c'è l'adiuvante. Cioè ci sono tante variabili anche nel vaccino che possono trasformare il vaccino sicuramente in un'arma estremamente utile, però in alcuni casi se queste variabili non vengono prese in considerazione possono dare qualche problema. Quindi non è un demone, i demoni non esistono, bisogna cercare di avere una posizione equilibrata, i vaccini sono utili, il medico è la figura che deve cercare di sapere cosa c'è dietro, perché è sempre nel campo reumatologico, i nostri pazienti, quelli con malattie autoimmuni, sono attivati, sono iperimmuni. Alcuni vaccini, non tutti, alcuni vaccini tendono a stimolare un po' tanto il sistema immunitario. E quindi quando noi abbiamo dei malati che sono stabilizzati, noi dobbiamo sempre fare un peso fra bilancio a far rischio e beneficio. Se il rischio di ammalarsi di quella malattia virale non è un danno così alto, dall'alto dobbiamo valutare se convenga il non somministrarlo, perché può far riattivare la malattia autoimmuni. Un paziente con lupus, un paziente che può avere grossi problemi per la sua malattia, così come può stare benissimo perché non si accorge neanche di avere la malattia. A seconda dei momenti in cui si trova bisogna saper valutare questo, quindi è un lavoro che deve saper fare il medico. Non si può dare tutto a tutti indiscriminatamente senza sapere, non si può fare la medicina del fai da te con internet.